Corpo a corpo. E questa è la cifra narrativa della 34esima edizione di Oriente Occidente. Un corpo a corpo che rimanda alla conflittualità dei singoli e della società intera. Nel centenario dello scoppio della prima guerra mondiale, non poteva essere che questo è il ferruge di Oriente Occidente 2014, di scena a Rovereto e a Trento dal 30 agosto all'8 settembre. Un tema ancora più simbolico a Rovereto, dove una campana originata dalla fusione di cannoni delle 19 nazioni che combatterono la grande guerra, quotidianamente la ricorda con i suoi rintocchi ed è monito perenne di pace. Il festival abbandona quindi la bussola geografica, che ha contraddistinto le passate edizioni per indagare l'uomo, le comunità, le tensioni politiche e sociali che attraversano tutte le aree della terra, ma anche il desiderio di riscatto e pacificazione. Quindi non solo corpo contro corpo, ma anche corpo verso corpo. Un panorama eterogeneo, un modo per capire la realtà mai così dura dal punto di vista dei conflitti come in questo periodo, dove i più deboli vengono uccisi, martoriati, usati per gli scopi più brutali. Un panorama eterogeneo, un modo per capire la realtà mai così dura dal punto di vista dei conflitti, come in questo periodo dove i più deboli vengono uccisi, martoriati, usati con gli scopi più brutali. Gli autori arrivano dall'Europa, dall'Africa subsahariana, dalla Venezuela e dal Medio Oriente con il loro bagaglio di culture, di storie da raccontare, di mondi da condividere. E a proposito di paesi di guerra, dopo lo spettacolo d'apertura, spettacolo aereo del coreografo e scenografo Fabrice Guillo, arriverà una chicca. In prima nazionale, domenica 31 agosto, Rizoma, happening di Sharon Friedman, il coreografo israeliano attivo dal 2006 in Spagna, con la compagnia che prende il suo nome. L'appuntamento è alle prime luci dell'alba, la campana dei caduti di Rovereto, partecipano una settantina di persone e una decina di musicisti, una comunità danzante di gente comune che sembrerà evocare l'origine del mondo. Novità di questa edizione di Oriente Occidente è la pratica della community dance, che mira a coinvolgere il territorio e i suoi abitanti in un'espressione artistica condivisa e per tutti. Danza contemporanea, quindi, come felice strumento munito del potere di trasformare non solo l'individuo, ma anche la qualità del rapporto sociale. Perché, e sono parole di Maurice Bejar, il posto della danza è nelle case, per le strade, nella vita. Tutti gli spettacoli e gli appuntamenti sono su orientoccidente.it Tutti gli spettacoli e gli appuntamenti sono suoi abitanti.